cerchio e seno attraverso nt a cura di vb 11 febbraio 2017 è molto più importante hola compadres miguel saluda a vosotros suerte hasta luego salve per un attimo ho temuto di non poter avere il pieno controllo dello strumento un'altra entità ha tentato di usare il suo corpo ma miguel prontamente glielo ha impedito ecco ora posso avere il controllo perfetto di questo corpo bene ancora una volta ci siamo incontrati vero? non starò molto in quanto abbiamo tre tappe da raggiungere questa sera il cerosico dare la possibilità a qualche entità di usare questo corpo il che come ripeto fino alla noia è infine la finalità vera di questa esperienza voi ne potete trarre tutte le positive influenze va bene però ricordate che è molto più importante aiutare quella entità che si ribattono in una confusione mentale e spirituale e a volte basta pochissimo per far capire loro che la dimensione in cui si trovano non è più quella terrena che in davvero siaribile che divirà l'Eglian quindi è